Sony ha dotato le cuffie over-ear Bluetooth WH-1000XM2 della migliore tecnologia di fascia alta. L'azienda tecnologica si affida a speciali tecnologie di compressione e ottimizzazione del suono per garantire a chi le indossa il miglior suono possibile. È inoltre presente un processo intelligente di cancellazione attiva del rumore che tiene conto anche della pressione dell'aria. Una funzione che gli amanti del Jet Set e i Frequent Flyer apprezzeranno sicuramente. Il Sony WH-1000XM2 non mostra quasi nessun punto debole nella panoramica del test, a parte il prezzo, che è comunque ragionevole in considerazione dello spettro di prestazioni. Sony WH-1000XM2 con tecnologia moderna e un tocco retro chic Sony, Sony WH-1000XM2, cuffie Bluetooth over-ear, panoramica Sony. WH-1000XM2 nella panoramica del test, caratteristiche e funzioni speciali recensione delle cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM2, accessori e aggiornamenti panoramica del test Sony WH-1000XM2, installazione e configurazione vantaggi le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM2. Nella panoramica del test, svantaggi cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM2. Nella panoramica del test, panoramica dei test di Sony WH-1000XM2. Test importanti sulle cuffie wireless, conclusioni sulle cuffie wireless Bluetooth Sony WH-1000XM2. Nella panoramica dei test Sony WH-1000XM2. Nella panoramica del test, prezzi e offerte cuffie Bluetooth JBL e 65 BTN-C con anche nella panoramica del test Sony WH-1000XM2. Nella panoramica del test, dati tecnici e altri test sulle cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM2, cuffie Bluetooth over-ear, panoramica. Con le cuffie over-ear Bluetooth wireless Sony WH-1000XM2, l'azienda di elettronica Sony rimane fedele alla sua buona reputazione. Il design delle Sony WH-1000XM2 emana un'eleganza sobria, abbinata a un pizzico di fascino retro alla moda, e si adatta perfettamente. Ha un abito da lavoro, ma fa la sua bella figura anche durante un weekend in costa azzurra. Gli interessati possono scegliere tra i colori oro e nero. Sony WH-1000XM2 le cuffie con minimizzazione del rumore sono ora dotate anche di Google Assistant. Fino a 30 ore di durata della batteria. Stato, 20,11-2023 anche il funzionamento è esclusivo e avviene tramite una superficie sensibile al tocco sull'alloggiamento del padiglione auricolare. La funzione vivavoce delle cuffie può essere attivata, ad esempio, con un doppio tocco. Le cuffie Sony WH-1000XM2 sono facili da trasportare, possono essere ripiegate e trasportate in una custodia in una borsa o in uno zaino. Le cuffie Bluetooth di classe superiore Sony WH-1000XM2 funzionano anche con Google Assistant, in modo che l'assistente vocale sia sempre disponibile. Sony WH-1000XM2 nella panoramica del test, caratteristiche e funzioni speciali. Sony WH-1000XM2 tiene conto della pressione dell'aria per la cancellazione del rumore. Sony, Sony WH-1000XM2 è disponibile su Amazon, al prezzo di 279,99€, al 27 agosto 2023. Sony ha dotato il suo altoparlante Bluetooth over-ear di diverse tecnologie di miglioramento del suono. Queste includono la riproduzione wireless tramite compressione LED AC, che trasmette una quantità di dati fino a tre volte superiore rispetto all'audio Bluetooth tradizionale. A ciò si aggiunge il Digital Sound Enhancement Engine di SEHX, in grado di ripristinare i suoni persi durante il processo di compressione. In sintesi, ciò significa che le cuffie WH-1000XM2 di Sony sono in grado di elaborare e ottimizzare un maggior numero di dati audio. A parità di volume di dati. Cancellazione del rumore personalizzabile. Le cuffie rilevano automaticamente se l'utente è seduto, cammina o è in treno e regolano il livello di cancellazione del rumore. Gli utenti possono regolare i valori nell'app Android barra verticale. Funzionamento adattivo. L'utente può regolare il livello di cancellazione del rumore premendo sul padiglione auricolare. Utile per ascoltare gli annunci dell'altoparlante o per le conversazioni spontanee con i colleghi. Regolazione della pressione dell'aria. Chi viaggia spesso apprezzerà la regolazione delle cuffie Bluetooth WH-1000XM2 di Sony. Le cuffie adattano la cancellazione del rumore alla pressione dell'aria prevalente durante il volo. Recensione delle cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM2. Accessori e aggiornamenti. Sony fornisce le sue cuffie wireless over-ear Bluetooth con un adattatore per l'uso in aereo. Un cavo per cuffie lungo circa 1,5 metri. Con mini spina stereo placata in oro, un cavo USB e una custodia per il trasporto. Stato. 10 fratto 2018, Sony WH-1000XM2. Le cuffie con minimizzazione del rumore sono ora dotate anche di Google Assistant. Fino a 30 ore di durata della batteria.